È stata minacciata dai talebani, ma trova la salvezza a Verona. Soldato Jain, soprannome che le è stato dato per mantenere il segreto sul suo vero nome, dall'Afghanistan ha trovato finalmente un porto sicuro e un lieto fine per sé e la sua famiglia. Una situazione che si è sbloccata in pochissimi giorni. La donna, responsabile della politica femminile dell'esercito afgano, era nella blacklist del nuovo governo talebano. La sua sicurezza era minacciata. Il sito di informazione Inside Over aveva pubblicato un suo appello, un grido d'aiuto per l'Italia, paese con cui per anni aveva lavorato fianco a fianco. Infine, il 27 settembre la svolta. Un messaggio al giornalista Fausto Biloslavo, che l'aveva intervistata a Kabul, che diceva «Ho appena passato il confine. Sono salva».